Eccoci alla prima lezione del nostro nuovo progetto insieme, il progetto home di Jamie Mill Price. Come in tutti i lavori, iniziamo con la preparazione della superficie. Io ho utilizzato una tavoletta di MDF. L'MDF, per le sue caratteristiche e per la sua composizione, non necessita di preparazione preliminare, a differenza di altri materiali. Se voi state utilizzando il legno, dovrete prima carteggiare con una carta a grana grossa, seguendo le venature del legno, spolverare e poi ripassare con la Superfilm, che è una carta abrasiva a grana finissima, con un lato lucido ed un lato opaco e va utilizzata dal lato opaco. Otterrete un effetto liscissimo. Jamie, nei suoi lavori, spesso, dà anche del tour a pori e utilizza il Multi Purpose Sealer della DecoArt, che si presenta in maniera trasparente, non altera il colore del fondo e una volta asciutto potete iniziare a dipingere.